ciao a tutte mdm e benvenute in un nuovo video è arrivato il nostro secondo ordine di shane qua c'è christian che sta facendo la merenda anche io mi sono appena fatta un caffè e adesso abbiamo fatto insieme a voi ovviamente avendo fatto il secondo ordine vuol dire che col primo mi sono trovata bene e quindi controlliamo allora ho preso la pennetta per pulire le cuffie queste qui e queste le abbiamo prese su amazon sia io che alessandro io le ho bianche lui le ha nere avevo preso questi qua da mettere in bagno o sulla scrivania adesso vedo alexa stop avevo preso questo da mettere o in bagno sulla scrivania adesso vediamo ha due cassettini ed è fatto di plastica qui c'è un set di press calda collo da maschi da bambino che l'ho presi per i bambini soprattutto per jacobo che non lo aveva poi dei rasoietti per il viso o comunque per qualche peletto un raschietto per le pulizie questi dovrebbero essere degli specchi poi vedo come vanno volevo metterli su un armadio che sono quelli adesivi dei porta la mette da mettere in bagno ce ne sono addirittura tre io pensavo fosse uno solo invece sono tre e questa è una per i capelli una fascia per i capelli un tappeto per il bagno ho preso grigio perché si tolta bene con il raggio della casa delle ciabatte con la suola proprio che così vanno bene anche per andare fuori degli stoppini per fare le candele perché i rimasugli i miei rimasugli delle candele di solito li tengo da parte gli sciolgo e poi faccio delle candele in più qui ho preso tre contenitori con il push sopra e volevo metterci non so il bagno schiuma lo shampoo e poi vediamo qui ho preso delle calze sono quelle basse per andare a lavorare a me vanno benissimo ho preso bianche e nere i pantaloncini per cristian per quest'estate sono quelli per andare tipo in piscina sono quel materiale tecnico da piscina poi io in realtà non mi sono mai fatta le sopracciglia ho preso degli stencil per sopracciglia e la matita per le sopracciglia poi vediamo cosa ne verrà fuori ecco questo è quanto adesso man mano che sistemo le cose in casa vi faccio vedere dove le metterò ecco ecco ecco